Che tipologi di investitore sei? Dagli inizi del nuovo secolo, i viaggi in automobili private negli USA registrano un calo. Dopo essere cresciuta ogni anno dalla Seconda Guerra Mondiale, nell'ultimo decennio la guida di auto private negli USA è diminuita di circa il 10%. I megatrend hanno la capacità di ridisegnare il panorama finanziario. In media, gli americani attualmente percorrono al volante circa 500 km in meno rispetto al 2000, e meno del 70% dei 19 anni alla patente di guida, rispetto al 90% circa di 20 anni fa. Il fascino dell'automobile sembra destinato ad affievolirsi ulteriormente, si prevede che, nei prossimi 25 anni, le vendite di auto negli USA subiranno una contrazione intorno al 40%. In futuro i veicoli circolanti sulle strade americane potrebbero essere meno di 100 milioni, contro i 250 attuali. Le tendenze che cambiano il nostro mondo e i megatrend sono un insieme ben preciso di potenti forze di cambiamento sociale, demografico, ambientale e tecnologico che stanno trasformando il nostro mondo. Questi trend evolvono indipendentemente dal ciclo economico e, sebbene possano svilupparsi in diversi modi e con un ritmo diverso, ciascuno di essi ha la capacità di ridisegnare il panorama finanziario. Da questo punto di vista, riscontriamo che il settore dell'auto è fortemente influenzato da tre tendenze strutturali tra quelle che compongono il nostro modello. Ciò che rende estremamente importante la compressione e lo studio dei megatrend è il fatto che tutti questi cambiamenti avvengono contemporaneamente. Il primo trend è la sostenibilità, o la cresciuta importanza che i privati cittadini, le aziende e le forze politiche attribuiscono. Alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali mondiali. Poiché l'automobile provoca danni all'ambiente, essa diventa oggetto di normative più restrittive e al tempo stesso perde il suo fascino tra le fasce di popolazione più giovani. Il secondo trend è lo sviluppo tecnologico, ovvero l'incredibile ritmo con cui evolve la tecnologia moderna. Nel settore dell'auto, questo trend si manifesta in diversi modi, tra i quali il più evidente è lo sviluppo di auto elettriche e con pilota automatico da parte di Tesla. Il terzo trend che caratterizza il settore automobilistico è la crescita dell'economia di rete, la maggiore interconnessione tra privati e imprese che consente di velocizzare il trasferimento di beni e di servizi dal fornitore al destinatario. Si potrebbe definire il fenomeno come l'economia della condivisione e un'azienda che ha saputo sfruttare in modo efficace questo trend. È Uber con i suoi servizi di car sharing. Tuttavia, il progresso tecnologico, la crescente preoccupazione diffusa in tutto il mondo per la sostenibilità del pianeta e l'economia. Di rete sono soltanto tre dei molti trend a lungo termine che avranno profondi effetti sulle interazioni tra gli individui, le organizzazioni e l'ambiente negli anni e nei decenni a venire. Ve ne sono molti altri. Uno tra i meno intuitivi seppure più potenti fattori di cambiamento è l'individualizzazione. Si tratta del processo per cui gli individui esercitano un'influenza sempre maggiore sul loro ambiente, anche grazie alla diffusione dei social media. Un altro elemento è il cambiamento demografico, profonde variazioni della popolazione mondiale, quali l'aumento dell'aspettativa di vita e l'espansione dei centri urbani. Una strategia basata sui megatrend, oltre a essersi dimostrata preziosa in periodi di cambiamento e di incertezza economica e finanziaria, ci ha permesso di realizzare investimenti di successo. Ciò che rende estremamente importante la comprensione e lo studio dei megatrend è il fatto che tutti questi cambiamenti avvengono contemporaneamente. Secondo Rudolf Lomaier, consulente e amministratore del Global Business Policy Council di A.T. Cerny, società di management consulting globale, l'attuale tasso di cambiamento a livello mondiale è senza precedenti. Come analizzare i megatrend? Analizzare e comprendere i megatrend è un'attività complessa che richiede numerose competenze. Noi di PICT Asset Management abbiamo affrontato il problema collaborando con vari esperti di megatrend, una prestigiosa compagine di accademici e professionisti di settore che hanno sviluppato una profonda conoscenza delle tendenze strutturali che trasformano la nostra realtà. Il loro ruolo consiste nel far luce sulle dinamiche dei megatrend, cercando di chiarire come essi potranno influenzare le prospettive dei settori in cui investono i nostri gestori per conto dei nostri clienti, senza indicare i singoli titoli da inserire in portafoglio. La nostra esperienza ultraventennale nella gestione di fondi tematici dimostra come l'approccio incentrato sui megatrend ci consenta di aiutare i nostri clienti a sviluppare una prospettiva a più lungo termine. Una strategia basata sui megatrend, oltre a essersi dimostrata preziosa in periodi di cambiamento e di incertezza economica e finanziaria, ci ha permesso di realizzare investimenti di successo. Barclays Il presente materiale di marketing è emesso da PICT Asset Management, Europe, S. A esso non è indirizzato a, e non è concepito per la distribuzione a o l'utilizzo da parte di, qualsiasi persona o entità avente cittadinanza, residenza o ubicazione in qualsiasi località, stato, paese o giurisdizione in cui tale distribuzione, pubblicazione, messa a disposizione o utilizzo sono in contrasto con norme di legge o regolamentari. Prima di effettuare qualsiasi investimento, è necessario leggere l'ultimo prospetto del fondo, del modello precontrattuale se applicabile, del documento contenente le informazioni chiave, il bilancio annuale e la relazione semestrale. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese sul sito www.assetmanagement.pict.e, o in forma cartacea presso PICT Asset Management, Europe, S. A. 6 B. Roodoo Fortnieder-Gwenwood, L. 2226 Lussemburgo, o presso l'ufficio dell'agente locale, del distributore o dell'eventuale agente. Di centralizzazione del fondo. Il documento contenente le informazioni chiave è disponibile anche nella lingua locale di ciascun paese in cui il comparto è registrato. Il prospetto, il modello precontrattuale se applicabile, nonché il bilancio annuale e la relazione semestrale possono essere consultati anche in altre lingue. Si rimanda al sito web per le altre lingue disponibili. Solo la versione più recente di tali documenti è affidabile per prendere le decisioni d'investimento. La sintesi dei diritti degli investitori, in inglese e nelle diverse lingue del nostro sito web, è disponibile qui e su www.assetmanagement.pict.è nella sezione risorse a piedi pagina. L'elenco dei paesi in cui il fondo è registrato può essere ottenuto in qualsiasi momento presso PICTE Asset Management, Europe, S.A., che può decidere di risolvere gli accordi presi per la commercializzazione del fondo o di comparti del fondo in ogni singolo paese. Le informazioni e i dati contenuti nel presente documento non costituiscono una offerta o una sollecitazione per l'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di titoli o altri strumenti o servizi finanziari. Tutte le informazioni, le opinioni e le stime qui contenute riflettono un giudizio espresso al momento della pubblicazione e sono suscettibili di modifica senza preavviso. La società di gestione non ha preso alcuna misura atta a garantire che i fondi indicati nel presente documento siano adeguati per un particolare tipo di investitore. Il presente documento non deve pertanto sostituire un giudizio indipendente. Il trattamento fiscale dipende dalla situazione personale dell'investitore e può subire modifiche nel tempo. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si raccomanda all'investitore di verificarne l'appropriatezza tenendo conto in particolare della propria conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, dei propri obiettivi di investimento e della propria situazione finanziaria, ricorrendo ove necessario a una consulenza professionale specifica. Il valore dei titoli o degli strumenti finanziari menzionati nel presente documento, e il reddito che ne deriva, possono tanto aumentare quanto diminuire e vi è la possibilità che l'investitore non ottenga in restituzione l'intero capitale originariamente investito. Le presenti linee guida per gli investimenti sono linee guida interne soggette a cambiamento in qualsiasi momento e senza preavviso, nei limiti del prospetto del fondo. Gli strumenti finanziari menzionati vengono indicati unicamente per finalità illustrative e non devono essere considerati come una offerta diretta, una raccomandazione di investimento o una consulenza per gli investimenti. Il riferimento a un titolo specifico non costituisce una raccomandazione per l'acquisto o la vendita dello stesso. Le allocazioni effettive sono soggette a cambiamenti e potrebbero essere cambiate della data del materiale di marketing. Le performance del passato non sono indicative e non costituiscono una garanzia dei rendimenti futuri. I dati relativi alla performance non comprendono le commissioni e gli altri oneri addebitati al momento della sottoscrizione o del rimborso delle quote o azioni. Tutti i dati dell'indice qui riportati restano di proprietà del fornitore dei dati. Le note legali del fornitore dei dati sono disponibili su Asset Management. PICT è nella sezione Risorse a piedi pagina. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da PICT e Asset Management e non rientra nel campo di applicazione dei requisiti MIFID 2 MIFIR specificamente collegati alla ricerca per gli investimenti. Questo materiale non contiene informazioni sufficienti per supportare una decisione di investimento e non deve costituire la base per valutare i meriti di un investimento in qualsiasi prodotto o servizio offerto o distribuito da PICT e Asset Management. PICT non ha acquisito i diritti o l'autorizzazione per riprodurre i marchi commerciali. i logo o le immagini riportati in questo documento, a parte il suo diritto di utilizzare i marchi commerciali del gruppo PICT unicamente per finalità illustrative.